Ho messo che questa è una serata fantastica ed è un grande insegnamento di democrazia. Io personalmente credo che avrei votato Vanna, ma perché è da europea in Italia, perché avrei timore in qualche modo di un po' di attitudine, di saldicolazione e di tagliere. Per ciò che riguarda l'agente economica, sono pubblicamente a conoscenza della situazione americana, però credo che, visto anche la situazione del debito americano, le tue agente non lo sanno. La critica per Paronne e Aubanna, non aver rilanciato, non aver fatto, beh, io non credo che lo potrebbe fare molto di più, in qualche tratta di tenere una linea di cautela e da questo punto di vista credo che le tue agente non sarebbero così.